Juve, 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 Juve. Oh, e che è? Non vedi questo? Che sta a fare qui? Sapevi che veniva a Berlino e non mi hai detto niente che ci vieni pure te. Siamo venute con ste amici per vedere una partitella. Da Juventus? Sì, siamo un gruppo di amici juventini di Campo dei Fiori, è il venticello, è il socio fondatore. E tu chi sei? Sono la presidentessa. Se ti vuoi fermare a parlare con questo, noi se ne andiamo, tant'è il biglietto ce l'ha e ci raggiungi allo stagio. Andiamo! Porta, Juventus! Venga anch'io! No, tu no. Perché no? Perché no? Perché mi devi spiegare. Come mai a Roma mi hai detto sempre che eri romanista sfegatato? E qua vengo a scoprire che sei socio fondatore del club della Juventus. Ertifo, ertifo! Io so della Juventus e quest'anno vincevamo pure la coppa delle coppe. No, quest'anno vincevamo la pizza delle pizze. Ha capito? Ha capito? Ma che c'è il moscerino? Eh? Vedi? Ah, l'alfabeto Morse. Vedete quello lì che sta facendo finta di leggere i giornali? E lo vedo sì. È da Roma che mi sta a seguire. È anche qua, da quando sono uscito dall'Arbelda, capito? Ma ricordate quella zoccola che mi ha riportiato giù a Roma? Quello è uno di quelli che mi ha dato un sacco di botte. Adesso gli ha una marità. Con gli interessi, capito? Namo, vi è con me. No, io vado alla partita! No, tu chiedi con me! No, tu chiedi con me! No, tu chiedi con me! Non, tu chiedi con me! No, tu chiedi con me! No, tu chiedi con me! Grazie per la visione!